Quello che vi farò vedere, adesso con l'iPhone posso muovermi all'interno dello studio, ovviamente è un'impostazione che io mi sono fatto dopo quasi 25 anni di lavoro, quindi anche facendo lavori ho investito per comprare macchine, cose che io ritengo necessarie per quello che faccio io. Però non è necessario per produrre una canzone tutta questa roba, ok? Io ce l'ho perché so che per avere un risultato, anche se magari la gente ascolta su Spotify con l'iPhone, senza cuffie, non mi interessa, cerco di avere il massimo sia per piacere mio sia perché, ricordiamoci sempre, le canzoni che andiamo a produrre in qualche modo rimangono nel tempo, si spera. Quindi tra dieci anni, se vi ascoltate una cosa che avete prodotto o se vi ascolta qualcun altro, non vergognarsi di quello che si è fatto dieci anni prima è già una buona cosa, no? Poi si spera che rimangono nel tempo. Allora, la volta scorsa abbiamo visto che io utilizzo anche Logic, però nell'ultimo periodo come piattaforma preferisco fare tutto su Pro Tools direttamente, anche se... Pro Tools, diciamo, rispetto a Logic e Ableton, ha una situazione di gestione del MIDI un pochino meno efficace di Logic e Ableton. Logic, considerate che nasce come un sequencer MIDI negli anni 90, da una società tedesca, quindi nasce come software per controllare macchine che hanno protocollo MIDI, come ad esempio sintetizzatori, drum machine, eccetera, eccetera. Pro Tools invece nasce come un editor audio, come un sequencer audio, come un registratore audio digitale su hard disk, su disco rigido. Poi, negli anni, implementa il MIDI, ok? Quindi non parte come sequencer MIDI, ma il MIDI viene implementato dopo, dopo vari aggiornamenti, e negli anni poi l'hanno migliorato. Però non parte con quell'intento, quindi il MIDI è un pochino più macchinoso. Allo stato attuale Pro Tools Ultimate, secondo me, si può utilizzare. Non so se consigliarvelo se avete una situazione tipo portatile o non volete spendere troppi soldi, perché comunque sia Logic sia Ableton, secondo me, rimangono le soluzioni da una parte più economiche relativamente. Dall'altra parte è un po' più smart e leggere se si vuole produrre col portatile. Pro Tools purtroppo, ad esempio, non ha granché di strumenti virtuali al momento dell'acquisto, non ha granché plug-in al momento dell'acquisto, non ha loop interni, non ne ha granché, al contrario degli altri software menzionati prima. Per cui vi ritrovereste con un registratore, sostanzialmente, su hard disk, che vi permette di fare editing e poco di più. Quindi dovete comprare strumenti virtuali di compagnie terze, come Arturia, Native Instruments, eccetera, eccetera, i costi iniziano a fluttuare. In più, secondo me, Logic e Ableton Live sono un po' più leggeri a parità di plug-in aperti. Quindi, se avete tanti strumenti aperti, tanti plug-in aperti con laptop, se avete la stessa quantità di cose aperte su Pro Tools, sempre sul laptop, è probabile che il computer sia più stressato. Ok? Questa è l'esperienza che ho avuto io. Per cui, io a un certo punto ho iniziato a fare tutto su Pro Tools, perché comunque io, da un certo momento in poi, lavoro su Pro Tools e sicuramente il mixaggio lo faccio su Pro Tools, perché su quello Pro Tools è imbattibile. Così come sull'editing, quindi tagliare, spostare cose molto più semplici, secondo me, su Pro Tools, è molto più efficace, anche per fare montaggio di audio per il cinema, è molto affidabile come software. E poi perché con l'uscita dei chip M1, M2, inizia a diventare anche da nativo, quindi anche senza comprare i DSP suoi, che potete, diciamo, aggiuntivi, Pro Tools inizia ad avere un senso. Ok? Quindi detto questo, allo stato attuale, grazie a un computer, a un Mac Studio M1, quindi abbastanza potente, poi ovviamente si inchioderà durante la serata e quindi mi rimangerà tutto, però abbastanza potente, posso lavorare su Pro Tools dall'inizio alla fine. Poi rispetto a un po' di anni fa, rispetto a una produzione come quella degli Exotago, io mi sto strutturando e mi sono strutturato per fare in modo che già in fase di, chiamiamola pre-produzione, già registro delle cose che poi probabilmente terrò. Ok? Inizio già a registrare in una qualità, secondo me, tenibile. Invece un po' di anni fa, magari registravo le chitarre utilizzando degli ampli, dei software, gli ampli virtuali, magari mi appuntavo dei sinti virtuali, poi spostavo su Pro Tools e iniziavo lì a fare in bella le cose che avevo fatto in pre-produzione. e poi mi sono accorto che molte volte le cose che facevo, magari in libertà, senza troppo stress, in pre-produzione erano fighe, allora mi sono detto perché non crearmi un set, diciamo, un po' più veloce, ma di qualità, per permettermi di registrare immediatamente le cose. Per cui, vediamo se riesco a girare, non so come si fa a girare il monito, a vivo, eh? Diciamo una cosa. Quindi questa è la... Mi sentite? Potessi qualcuno... Sì. Questa è la mia regia, quindi qui ho, diciamo, il cuore dello studio è il NEC Studio M1 con varie hard disk e varie... chassis per mettere delle schede negli slot PCI per utilizzare, ad esempio, i plug-in della Universal Audio, ma ve lo spiego dopo. Poi ho due speaker ATC attivi, quindi non hanno bisogno di amplificatore, sono amplificati internamente, due speaker JVC collegate a questo piccolo impianto JVC, questo ce l'ho anche a casa e l'ho usato per molti anni come reference per ascoltare i mix, per capire il balance, un reference economico, non so come dire. Ok? Questo impianto non lo fanno più, quindi lo trovate solo su eBay e costa un bel po'. Poi qua ho tutta una sezione, diciamo, hardware. La sezione hardware consta di scheda audio che ha 32 input e 32 output. Ok? Questo mi dà la possibilità, teoricamente, è di poter registrare 32 segnali separati contemporaneamente. Ok? Allora, inutile se dovete registrare una chitarra, una voce per volta, più utile se dovete registrare delle batterie, degli archi, delle cose che hanno bisogno di tanti microfoni. Ok? Quindi uno studio di registrazione deve avere una scheda con tanti input e tanti output per poter gestire la situazione. Poi ho, non avendo il mixer, come vedete, io ho una scrivania con un controller che si chiama Avocet della Crane Song che mi permette di alzare, abbassare il volume che va agli speaker, di decidere quali speaker utilizzare, di decidere quale sorgente sentire, quindi Pro Tools, magari voglio sentire l'audio del computer e di gestire anche le cuffie, però non c'è un banco, non c'è un mixer tradizionale. Per sopperire a sta cosa ho comprato negli anni diversi preamplificatori microfonici di diverse marche. Ok? Il preamplificatore microfonico, vi faccio vedere, il preamplificatore microfonico serve per entrare con un segnale microfonico dentro una scheda audio. Questo perché il segnale microfonico ha un livello troppo basso per entrare direttamente negli ingressi di linea della scheda audio, a meno che non siano schede audio che hanno anche degli ingressi microfonici. Ok? Quindi quando comprate le schede tipo l'Apollo Twin, l'Enbox, eccetera, in realtà hanno degli ingressi XLR, Canon, come si dice, con cui potete entrare col microfono. Schede di questo tipo, come la Orion 32 dell'Antelope Audio, che è questa qua, vedete che c'è scritto 44,1? Ok, questo tipo di schede da studio di solito non hanno ingressi microfonici. Ok? Non posso entrare col microfono lì dentro per vari motivi che adesso non vi sto a spiegare che sono inutili ai fini del nostro corso. Sappiate quindi che io dovrò avere un macchinario, un preamplificatore che mi innalzi il livello del microfono e mi dia la possibilità di entrare dentro questa macchina. Il preamplificatore microfonico non è soltanto un aggeggio che alza il volume ma è anche una macchina che a seconda del tipo di costruzione può dare un carattere al segnale.